Gentili telespettatori, buona giornata, sondaggio Mentana Tg La 7, sulle intenzioni di voto politiche nazionali realizzate da SVG. Fratelli d'Italia perde 1,06 ed è al 29,1%, i DEM guadagnano una settimana, lo 0,1% sono al 21%, mentre i grillini registrano un balzo dello 0,3% sono al 16,3%, Matteo Salvini è al 9%, per l'esaltezza 9,1%, Silvio Berlusconi con Forza Italia al 6,6%, e poi abbiamo 4% Calenda e 3% Matteo Renzi, Verdi sinistra italiana 3,4%, e poi abbiamo più Europa 2,4%, Paragone 2%, Unione Popolare 1,4%. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti.